Ora finalmente andiamo in vacanza tutti insieme. Già, divertente. Direi super divertente. Sì, divertentissimo. Più tardi vieni da me. Ok, quando Nora dormi. L'hai portato. Vogliamo dare un'occhiata alle stanze? Sì! Andiamo. E questo è il nostro letto? Olga. È stata una sua idea. Nora! Respira. Respira ancora. John, che succede? Niente, me ne occupo da solo. Nonno e papo Natale. Unico incredibile. John! Dietro. Dov'è la tua famiglia? Non è qui a tenerti la marina? Se ne parlasse a qualcuno, il Natale sarebbe in pericolo. Non ti sembra che sia il momento perfetto? Per caso hai bevuto niente? Oh no! Chi è ne sta qui? Buonasera. Se vuoi affrontare quelle montagne, devi fare colazione. È piccola. Basta, non sono piccola. No, Nora. No, Nora. Questa potrebbe aiutarti. Dammi la mano! Ma io te sono innocente, te lo giuro. Cameriere, mi porterebbe... Bittenhoch ein bisschen blivain. Scusa. Saluto. Papà vorrebbe che fossimo di nuovo una famiglia. Dobbiamo restare uniti, no? Ti ho detto che avremmo fatto tutto insieme! Hola, Santa. Vieni a te. Accusatemi! Fermati! Vorrei sapere come sta ora il signor Klaus. Beh, è un uomo saggio. Saprà come cavarsela. Papa Noel. Oh, no! Capullo! 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 Capullo!